Ciao a tutti, sono G-Fast One Man Band e sono qui per presentarvi le Maki Seagal Box Gitarre e se pensate che siano strumenti solo per suonare blusso, guardate questo video. Questa canzone è una canzone d'amore. La busta di Fave La busta di Fave La busta di Fave La busta di Fave E' dimagrita. La busta di Fave La busta di Fave La busta di Fave La busta di Fave La busta di Fave